ecco la nostra ultima serata sereno pioggia sta piovendo in questo momento ultimo giro ma cos'è questo? avanti saliamo dai dai avanti dai cosa? dai sali dai dai fai vedere come sali dai cosa? non vuoi salire? avanti allora saliamo qua sopra dai bay watcher avanti avanti ecco ciao 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 ciao